Nel cuore della Sicilia c'è un territorio da scoprire, in cui si intrecciano storia e natura, arte e cultura. È il distretto turistico delle miniere, dove potrai entrare in contatto con la Sicilia, nella sua anima più profonda e originale. Qui, le miniere di Zolfo e Salgem hanno lasciato indelebili tracce nella cultura, nel paesaggio e nelle tradizioni. Qui, l'archeologia industriale, con il suo fascino e la sua storia, convive con le vestigia dell'antica Grecia, con splendidi scorci di castelli affacciati sul mare, con borghi che raccontano dell'incontro tra culture diverse, con i profumi della macchia mediterranea. Seguendo gli itinerari del distretto turistico delle miniere, potrai conoscere la Sicilia profonda, ascoltare racconti di un passato che è ancora vivo nelle tradizioni locali, scendere nelle viscere della terra, con i tunnel delle antiche miniere, respirare la storia che emana dalla Valle dei Templi e dai suggestivi centri di Agrigento e Caltanissetta, fermandoti a gustare eccezionali specialità gastronomiche. Lasciati conquistare dal fascino e dalla personalità di una Sicilia inaspettata e misteriosa. Distretto turistico delle miniere. Profondamente Sicilia.